Buongiorno a tutti, mi stupisce quanto siete rigorosi e bravi e viva. Allora, mi chiamo Luca Sommi. Cosa faccio nella vita? Insegno all'Università di Parma, linguaggio del giornalismo, faccio l'autore televisivo da tanti anni, ho lavorato in trasmissioni molto importanti da Michele Santoro, servizio pubblico, ho fatto l'autore per Vittorio Sgarbi quando facevamo i programmi d'arte, ho curato delle mostre perché la mia vita si è sempre divisa in un parallelo tra cultura e politica. Dirigo una collana di libri per Liberti Editore che si chiama i fiori del male, dove partecipano tante personalità della cultura italiana, da Gianrico Carofiglio a Vittorio Sgarbi, c'era anche, purtroppo non c'è più, Filippo D'Averio e tanti altri. Oggi io vi parlerò in modo non accademico perché l'unico modo per incuriosire e per far sì che le cose rimangano in testa è il percorso non accademico e ve lo dice un professor universitario. Non voglio disconoscere quel percorso, voglio riconoscere in quel percorso una cosa diversa rispetto ad accendere dei fuochi, perché accendere dei fuochi è la cosa fondamentale. Il titolo di questo incontro è il Museo Immaginario. Che cos'è il Museo Immaginario? È una definizione che diede tantissimi anni fa un intellettuale francese che si chiamava André Manraux. Molti di voi magari l'hanno sentito nominare, perché è stata una personalità molto controversa nella cultura francese, perché era di sinistra, ma andò a fare il ministro della cultura per il presidente de Gaulle. Guardava poco, destra, sinistra, era già avanti, guardava alle cose che si potevano fare. E cosa fece come prima cosa André Manraux? Fece le Maisons des Jeunes e delle culture nelle banlieue. Le banlieue avevano gli stessi problemi che hanno oggi. Lui fece degli edifici, ristrutturò degli edifici tipo questo, facendoci delle case della cultura. Voi non ci crederete, ma in queste case della cultura i disgraziati che spacciavano fuori dalle strade divennero altre persone. Quindi aveva la visione lunga. E un giorno diede una definizione bellissima che era quella di Museo Immaginario. Cosa significa? Lui disse, preconizzò una società del futuro che avrebbe avuto a disposizione tutte le immagini che voleva. Lui è morto nel 1976, non ha conosciuto internet, l'ha preconizzato però. Il Museo Immaginario è quella cosa che noi nel nostro salotto di casa, in ogni istante, con un click diremmo oggi, abbiamo la Pinacoteca Universale, tutte le immagini del mondo. Però bisogna stare attenti, perché, come diceva Umberto Eco, internet è apparentemente democratico. In realtà non lo è. Umberto Eco diceva che la televisione era stata democratica, nel senso che aveva tolto un po' i ricchi e dato un po' i poveri. Ricchi e poveri non si intende sotto il profilo economico, si intende sotto il profilo di arricchimento, di cose che si ha nella testa e nel cuore. Perché aveva tolto un po' i ricchi la televisione? Perché li aveva distolti da un po' da un libro e li aveva distolti da un po' di teatro per relegarli davanti a un programma televisivo. Mentre il povero di intelletto e di cultura aveva imparato quasi l'italiano. Non è così per internet, perché per internet chi ha già, attinge alla biblioteca universale e rapidamente ottiene le cose che cerca, chi non ha ci perde solo tempo e guarda solo stupidaggini. Quindi è apparentemente democratico in questo senso. Per questo si cerca di dare delle motivazioni affinché si sviluppi un'autonomia critica in ognuno di voi e possiate, ma voi già lo facete, lo fate, sono sicuro, e possiate andare su internet a cercare quello di cui avete bisogno. Detto questo, André Marrò, il museo immaginario, la forza delle immagini. Il novecento è il secolo dell'immagine. Una volta Olivero Toscani mi disse, prova a pensare cosa poteva sapere la gente della guerra prima dell'avvento della fotografia. È vero? Sì, c'era qualche dipinto, ma chi è che poteva vedere questi dipinti? Erano in tre. Come potevi immaginare cosa fosse la guerra senza aver visto una fotografia di guerra? La forza dell'immagine. Vi dirò di più. Edoardo Sanguinetti, che è stato un grande intellettuale italiano, ha definito il novecento, a mio modo di vedere, nel modo migliore. Ha detto, il novecento è il secolo di Freud, ossia dell'introspezione. È il secolo del braccio di ferro capitalismo proletariato, forse ancora in atto. Ed esse è quello del cinematografo. Uno dice, d'accordo, ma non è che possiamo mettere Sigmund Freud, il più grande filosofo del novecento, che ha rivoluzionato la storia dell'umanità, e la diatriba proletariato capitale con il cinematografo. No, lui diceva sì, assolutamente sì, perché il cinematografo è quello strumento che ci impone il meccanismo, la grammatica narrativa mentale per immagini, il montaggio. Il montaggio non è una cosa tecnica che si fa su Avid, il montaggio è una questione mentale, è una questione di grammatica mentale, ed è verissimo. Il secolo delle immagini si è appoggiato, adagiato, a volte forse si è addormentato sulle immagini. Linguaggio televisivo, rispetto al linguaggio scritto, è più leggero, si appoggia sulle immagini, sul valore semantico delle immagini. Mentre se non ci sono le immagini tu devi raccontare davvero le cose. Il grande romanziere ti deve raccontare tutto, ti deve far vedere le immagini. E allora ci troviamo in questo punto, nel punto nel quale l'immagine diventa fondamentale. Ma attenzione, che l'immagine non faccia perdere valore però alla parola, perché la parola è immagine e adesso lo vedremo. Perché la parola è immagine? Perché ci prepara, questo lo diceva sempre Umberto Eco che insomma è un punto di riferimento per tanti, diceva che la letteratura ha l'unica funzione di prepararci alla morte. Perché alla morte? Sì, perché la letteratura, a differenza della storia anche, è l'unica forma di espressione umana che sancisce qualcosa di incontrovertibile, che non si può cambiare. E come esempio, simpaticamente, Umberto Eco tirava fuori la questione di Napoleone, morto a Sant'Elena il 5 maggio 1821. Ma se domani venisse fuori un documento che testimonia il fatto che Napoleone Bonaparte in realtà non è morto a Sant'Elena, ma è morto in fuga da Sant'Elena su una nave bonapartista, anche la storia può cambiare. Quindi Napoleone Bonaparte può non essere morto a Sant'Elena, ma nessuno ci potrà dire che Anna Karenina non muoia alla fine del romanzo, che Clark Kent non sia Superman e che Sherlock Holmes sia sposato. No. Quella è la verità incontrovertibile. Le parole incontrovertibili. Però all'epoca venne fuori anche un dubbio e uno disse, è Cappuccetto Rosso? Voi magari mi chiederete perché Cappuccetto Rosso cos'ha? Cappuccetto Rosso ha due partiture. La partitura di François Perrault, dove Cappuccetto Rosso, alla fine della favola, caput, muore. Era un modo per dire ai ragazzi di non avventurarsi nel bosco. Poi subentrano i fratelli Grimm, che fanno quello che si chiama l'happy hand. Arriva il cacciatore e salva Cappuccetto Rosso. Qual è quindi? Allora, anche neanche la letteratura allora ci prepara l'incontrovertibile. Ci sono due versioni. No, perché noi ne focalizziamo una ed è quella vera. Voi, qualsiasi mamma, vada dal proprio bambino a dirgli che la partitura originale, qualsiasi mamma, si professi filologa di stretta osservanza. E vada dal suo bambino e dice, no caro, la versione è la prima, non la vuole. riconosce soltanto la seconda. Questo per dire immagini e letteratura. Mi è stato chiesto oggi di fare un intervento dove l'immagine sta nella letteratura. Allora, pensiamo a due giganti, a Dante e a Petrarca. Due uomini diversissimi, due poeti diversissimi. Uno è poeta del racconto, l'altro è poeta della dimensione interiore, no? La Divina Commedia cos'è? Per me ci va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, per me si va. Si attraversa l'Ade, un uomo in carne ed ossa che attraversa l'Ade. Petrarca, invece, chiare, fresche, dolci acque, ove le belle membra pose con lei che sono la mia perdonna. Cristallizzato. Le dimensioni interiore. L'opposto di Dante. E all'epoca, in quello straordinario fine di Medioevo, inizio di Rinascimento, la duplice strada era intrapresa da molti. Giotto e Simone Martini. Giotto è il pittore del racconto. La Cappella degli Scrovegni, vedete la storia di Gioacchino, Anna, Maria, Giuseppe, Gesù. È la storia in divenire. Simone Martini fa delle annunciazioni che sono idilliache, ma immobili, ferme. Esprimono una dimensione interiore. E allora, però, cosa che accomuna Dante e Petrarca? Nei due versi che vi ho portato della Divina Commedia del Canzoniere. Cos'è che accomuna questi due? Ve lo dico io. Avete visto delle immagini in entrambi. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Voi avete l'immagine di uno che sta camminando in un luogo buio, con delle anime dannate che gridano. E di là, chiare, fresche, dolci acque, ove le belle e membra. Avete visto un'immagine? La forza dell'immagine è nella parola. Qui è nella parola. Allora, visto che viviamo un'epoca molto particolare, no? Cioè poi voi siete dei millennial, più o meno. Siete nati quasi digitali, non siete nati analogici. I social sono uno strumento che può essere straordinario o totalmente inutile. Uno può mettere tutti i giorni il gattino e il cagnolino, che è fenomenale, anch'io li metto, o il piatto di pasta asciutta, o il piatto di plastica. Va benissimo. Però possono essere usati anche in un altro modo. Solo che l'altro modo non è ancora stato esplorato. Chi è che... E allora cosa succede? Durante il lockdown io, in modesta tentativi, ho tentato di fare dei percorsi. Uno che ve lo faccio vedere adesso. Visto che l'anno prossimo è l'anno di Dante, no? Morto nel 1321, a settembre, quella notte tra il 13 e il 14 settembre, muore uno dei più grandi uomini di sempre. Colui che ha scritto il libro più importante dell'umanità, di sempre, cioè il più grande. Essendo l'anno di Dante e avendo durante il lockdown io riletto la divina commedia, dico riletto perché voglio darmi un tono. In realtà l'ho letta, perché non possiamo pensare che al liceo sia una lettura vera, insomma. L'ho riletta e rileggendola è come un quadro fiammingo, cioè trovi ogni giorno qualcosa, è straordinaria. Allora mi sono detto voglio provare a fare un percorso sui social, su Instagram, dove purtroppo due volte alla settimana, perché se voglio fare 100 canti devo arrivare a settembre, devo farne due alla settimana, sono 50 settimane. Due volte alla settimana metto un canto della divina commedia in un minuto. Si potrà fare in un minuto? E chi lo sa? Io ho provato ed è molto seguita. Ho cercato di intraprendere una strada. Certo è una strada, è un bosco, è un antro oscuro, non è che c'è i click che arrivano subito giù a pioggia, però, però, vi faccio vedere. Adesso però con questo qui come faccio a schiacciar play? Cara regia? Forse, no. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Siamo nel 1300, Dante ha 35 anni e si perde in questa selva per tutta la notte. non sa neanche lui come è potuto capitare lì, tant'è che scrive io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi arriva il chiarore dell'alba e con l'alba esce dalla selva il nostro poeta e si incammina sulla collina, però poi incontra una lonza, una lupa e un leone. Le tre bestie feroci lo ricacciano in prossimità della selva. Lui è ancora impaurito, ma finalmente incontra il suo compagno di viaggio, il poeta Virgilio, che oltre a rassicurarlo gli dirà che potrà fargli attraversare l'inferno e il purgatorio per arrivare alle soglie del paradiso dove vedrà Beatrice, che là poi sarà colei che gli racconterà quel luogo meraviglioso. Dante accetta e intraprende il viaggio della sua vita, intraprende il viaggio della nostra vita nell'oltremondo. 60 secondi, un bignami della Divina Commedia. Sui social non ci sta di più. Se andiamo a 120 secondi non ci sta. Però vedete che non grazie a me, grazie alle parole dirette di Dante e alla mini sintesi che ho fatto io, è un minuto che ti dice un po' tutto quello del primo canto. C'era bisogno di mettere queste immagini di Gustave Doré, che è stato il più grande illustratore della Divina Commedia dell'Ottocento, no? Ma c'era bisogno di metterla? Sono incisioni straordinarie quelle di Gustave Doré. Secondo me no. Dante ci fa vedere le immagini con le sue parole. Secondo canto, poi basta. Play. Il giorno che è sbucato dietro il colle, tanto bello quanto inaccessibile, se ne va e arriva l'imbrunire. Con le tenebre in Dante sorgono i dubbi e li gira subito a Virgilio. Non si sente all'altezza di questo viaggio. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono. Ma è degno ciò, né io né altri il crede. Chi sono io uomo in carne ed ossa per attraversare il regno dei morti e portare testimonianza scritta? Non sono Enea l'eroe che tu hai raccontato, non sono San Paolo in paradiso nella lettera ai Corinzi. Virgilio tira fuori il nome che è un passepartout, Beatrice. E donna mi chiamò Beata e Bella tal che di comandare io la richiesi. In sostanza Virgilio dice a Dante che Beatrice gli ha detto, che Santa Lucia le ha detto, che la Madonna le ha detto che Dante va protetto e aiutato in questo viaggio. Il poeta ringalluzzisce e decide di partire con la sua guida per questo percorso oltremondano. La sua anima amata è morta da dieci anni, il suo poeta preferito è morto da 1318 anni ma lui si fida e come si dice il dado è tratto. Allora avete visto, è un tentativo, chi lo sa come andrà. Al momento queste cose sono seguite da qualche migliaio di persone. Io non ho moltissimi follower, ne ho 15 mila. non sono quello che c'è un milione di follower, quindi poveretti costretti o torto collo, oggi Dante. No, lo scelgono. Sarà una comunità che si allarga? Chi lo sa. Io è l'unica cosa che posso raccontare e quindi non è che ho scelta. Allora avete visto la nuova narrazione, lo storytelling. Lo storytelling credo che sia una definizione che è nata in questa scuola, se non ricordo male. Ha bisogno dell'immagine? No. La parola è immagine. Ma non è sempre stato così e non sarà sempre così, soprattutto perché siamo nel secolo dell'immagine, come abbiamo detto, no? È il momento esplosivo. Quando insegno il linguaggio del giornalismo ai miei studenti, cosa dico? Guardate che su un giornale online non è che colpisce il titolo, colpisce la fotografia. Vedete che a volte la stessa notizia esce una foto e dopo un po' la cambiano. Sapete perché? Perché vedono che non funziona. La notizia ha la potenzialità, ma c'è la foto sbagliata e cambia la foto. Magari mettono Trump di profilo, non va bene, lo mettono di fronte, va bene. Quelle dinamiche sono quelle che sono. Però nel linguaggio, nella narrazione contemporanea, noi dobbiamo prendere tutto. Si chiama il racconto cross-mediale. Oggi non c'è più una scrittura. Voi sapete che esistono le scritture, non c'è una scrittura. Come esistono le intelligenze, non c'è un'intelligenza. Io posso essere un intelligente su una cosa e somaro su un'altra. Laddove viene l'idraulico a casa mia, che è intelligentissimo su una cosa, io sono somaro. Cioè, esistono. Esistono le scritture. Prima erano più nettamente distinte. Oggi tendenzialmente no. Quando sentite i romanzi, non quando li leggete. Ormai li sentite molti di voi i romanzi. Cioè, si torna all'oralità della letteratura. Ma chi l'avrebbe mai detto? È partita orale. La poesia veniva orale. Socrate non ha scritto una riga. Il filosofo che non ha scritto una riga, diceva Derrida. Il filosofo che non ha scritto una riga. Ha solo parlato. Pelo male che c'era Platone, però, se no, non arrivava niente. Però, voglio dire, il senso, dove lo troviamo? Lo troviamo in questo linguaggio cross-mediale. Oggi dobbiamo prendere tutto. Tutto ciò che è allegorico e tutto ciò che è evocativo. Non nasce così l'arte, eh? L'arte nasce, vabbè, adesso, scusatevi, vabbè, andiamo bene. Allora, l'arte nasce alle grotte di Lascaux di Altamira. L'uomo primitivo, nella grotta buia, con un pezzo di carbone, disegnava un cerbiatto, un bufalo. Perché? Non è che l'abitava, la grotta, non è che l'arredava, tesoro, ti faccio un bel bufalo sotto salotto. No. Andava solo nella grotta per proteggersi. Ed era buia. Perché allora disegnava sul muro un cerbiatto? Perché era una preghiera. L'arte nasce come preghiera. Era una preghiera al suo Dio per dire fammelo incontrare perché la mia vita dipende da questo. La disegnavo sul muro. È commovente. Così come è commovente pensare con i bassorilievi medievali che ad un tratto vedi che uno dei personaggi della scena ha una civetta sulla spalla. Perché ha la civetta sulla spalla? Perché bisogna dire che quella scena è notte. Non si può fare la notte, no? In un bassorilievo ci metti una civetta sulla spalla. A me viene da piangere quando pensa a queste cose. C'è l'uomo che va oltre, cerca di andare oltre i propri limiti. E quindi l'arte nasce così. Poi quando è diventata quello che è diventata, perché non possiamo considerarla alte se non ai primordi, quella delle grotte di Lascaux, così come quella egizia, quando arriva a diventare quello che diventa, è molto semplice. Ha una funzione molto molto semplice. Spiegare agli analfabeti le sacre scritture. Non pensate... Poi è chiaro che i committenti di una fabbriceria, di una cattedrale, se vedevano uno più bravo che si chiamava Raffaello, lo chiamavano rispetto a Pinco Palino che era meno bravo, perché lo vedevano che era più bravo. Però la funzione era pratica. Far capire le sacre scritture. E noi attraverso queste immagini noi ci possiamo riscrivere le storie. Vi ho preso un esempio, a mio modo di vedere, divertente, ma non solo divertente, che è questo. Adesso vi faccio vedere tre immagini d'arte che sono lontane nei secoli, ma a pochi istanti una dall'altra. La scena che raccontano. Questo si chiama Benedetto Antelami, siamo nel 1178 ed è nel Duomo della mia città, Parma. Non l'ho scelto per campalinismo, l'ho scelto perché questo è il primo racconto cinematografico scolpito nella pietra, nel marmo. Allora, guardate bene. La croce divide in due la scena. A sinistra buoni, a destra i cattivi. Gesù Cristo è appena morto, da poco. Tant'è che Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea stanno deponendo dalla croce. Addirittura hanno già staccato una mano. La mano che è staccata, guardate dov'è. È nelle mani della madre, di Maria, che la sta accarezzando. Vuol sentire ancora il corpo caldo di suo figlio. Dietro Maria ovviamente c'è San Giovanni che piange. San Giovanni piange sempre, in ogni scena di deposizione. E le tre Marie dietro. L'Arcangelo Gabriele, anche lui, tocca la mano di Gesù e sotto l'allegoria della Chiesa Cattolica. Quel personaggino basso che ha il gonfalone dritto, in piedi, in segno di vittoria. È morto per noi ma risusciterà. Abbiamo vinto. I buoni a sinistra. A destra i cattivi. C'è Longino, che è sotto l'angelo, con lo scudo, lo vedete, che ha appena inferto il colpo di lancia nel costato di Cristo e si è convertito in quel momento. Vedete che ha il capochino? Si è convertito e ha una mano così, vedendo cos'è uscito dal costato di Cristo. L'Arcangelo Raffaele piega la testa all'allegoria della sinagoga, in segno di sconfitta. Hanno ucciso il figlio di Dio. E poi ci sono i centurioni romani. Guardate cosa stanno facendo. Si stanno dividendo la veste di Cristo con un coltellaccio in mano per spartirsela e se la stanno giocando a dadi. Hanno i segno di rinascita. Questa è una scena cinematografica. Passano, non so, due minuti, ma in realtà passano tre secoli e mezzo. Pontormo. Sono passati due minuti da quella scena là, però sono passati tre secoli e mezzo. Non c'è neanche più la croce. Non serve la croce. La storia conosciuta. E quindi ci sono i due che stanno sorreggendo. Guardate come è leggero il corpo di Cristo. È il corpo di un morto. È una piuma ormai. È privo di forze. Le nervature hanno lasciato tutto. Guardate come sembra un'onda. Tanto è leggero che Pontormo, come ci dice, che è leggero. I due che lo trasportano sono in punta di piedi addirittura. Cioè non devono neanche appoggiare l'intero piede per sostenerlo. E poi vedete, donne che piangono naturalmente, Maria al centro della scena, con la veste azzurra, una donna che le va incontro per aiutarla, e questo Pontormo. Due minuti dopo, antelami. Un minuto dopo, correggio. Antonio Allegri detto correggio. Torna la croce. Ma non è la croce per intero. Non serve vederla tutta. Si vede solo il basamento. Guardate chi c'è. C'è Giuseppe d'Arimatea che sta scendendo con le pinze in mano. L'avete visto nel basso rilievo dove era? Era là che stava staccando l'ultimo chiodo. Sta scendendo. La Maddalena ai piedi di Cristo. Maria sta perdendo i sensi. San Giovanni di fianco piange. Il corpo di Cristo non è ancora il corpo di un cadavere, ma il colore sta andando in quella direzione. Ecco, l'arte di secoli differenti, due del Rinascimento e uno medioevale, ci raccontano una storia. Perché coloro che dovevano sapere questa storia non sapevano leggere. È molto semplice. Non è che ci siano delle cose, dei voli pindarici. Cos'altro posso dirvi? Ecco, vi dico questo. Allora, avete visto come l'immagine può interagire con la parola. Abbiamo preso, abbiamo fatto un percorso lineare. Abbiamo preso sprazzi così, abbiamo preso dei campioni. Però ci fanno vedere delle cose. Adesso io invece vi racconterò, e qui arriva l'esercizio di stile di oggi, non sono gli esercizi di stile di Raymond Queneau che vi consiglio di leggere perché non li ha letti. È un racconto scritto 99 volte con 99 stili diversi. Fortunatamente tradotto da Umberto Eco, che oggi sto evocando tanto. Lo stesso racconto, 99 stili diversi. Oggi facciamo un esercizio di stile, che è quello di provare a prendere un racconto letterario. Adesso ve lo racconto. Non vediamo immagini. Un racconto letterario che io credo sia, io, insomma, chi sono io, ma io credo che sia uno dei più bei racconti mai scritti, ma questo lo dicono in tanti. Si chiama Michael Colas di Heinrich von Kleist, è stato scritto all'inizio dell'Ottocento e racconta di una storia ambientata nel Cinquecento. Io credo che oltre ad essere uno dei più bei racconti mai scritti sia anche uno dei più fotografici. Noi vediamo tutto. Alla fine di questa mia spiegazione, di questo mio racconto più che spiegazione, cercherò di farvi vedere delle immagini evocative e allegoriche che non siano didascaliche come quelle di Gustave Doré con la Divina Commedia, perché lì si era semplicemente un arredo a una casa già costruita. Noi nel linguaggio contemporaneo dobbiamo cercare delle immagini che siano soprattutto allegoriche. Io ho attinto alla grande Pinacoteca universale che è la storia dell'arte, ma uno può attingere dove vuole, semplicemente deve evocare quella cosa. Allora, la storia è questa, Michael Colas, che per convenzione chiameremo Michele, perché sennò è un allevatore di bestiame, vive in Germania, in Sassonia, all'inizio del 1500. Ha un allevamento straordinario. Sta per partire per andare a Dresda, al mercato del bestiame, a circa 40-50 cavalli, ma ne ha due che ha allevato. Sono i suoi due gioielli straordinari. Parte col suo servo con i 40 cavalli e si incamminano, avranno giorni di cammino per arrivare a Dresda, al mercato. A metà strada arriva la tempesta, temporale tempesta. Si agitano tutti. Cosa facciamo? I cavalli sono tranquillissimi, sono animali, sanno che la natura è fatta di queste cose. Si fermano nella proprietà del barone Fontronca. Arrivano i servi del barone Fontronca, vedono i cavalli. Il barone con i suoi amici che sta cenando in casa, sta pranzando, vede i cavalli e ferma quella mandria. Scendono, scende il barone, non saluta neanche Michele Colas, va direttamente a vedere i cavalli e fa delle offerte. Michele Colas dice dei prezzi, ma non accettano. Al che un servo va da Colas e dice per andarsene dal territorio del barone Fontronca ci vogliono lasciapassare che consegnano a Dresda. Scusi, ma io questa strada l'ho fatta per anni, tutti i mesi. Adesso c'è bisogno di un lasciapassare? Sì. Lui parte, va a Dresda, lascia il servo, rimani tu qui e vado a prendere questo lasciapassare. Arriva a Dresda, i suoi amici allevatori lo deridono. Michele, ma ti ha preso in giro? Non c'è, nessuno lasciapassare. Non devi fare niente, ti ha preso in giro il barone, torna a prenderti i tuoi cavalli. Questo riparte. Torna, problemino, che i cavalli ci sono tutti, ma i due Morelli, meravigliosi. Quelli che voleva comprare il barone Fontronca non ci sono più. E non c'è neanche più il servo Erz. Allora Michele Colas cerca di capire che cosa è successo. Se ne sarà andato Erz con i soldi che gli ha lasciato? Nessuno gli dà una risposta. Ad un tratto vede i suoi due Morelli in una stalla, in un porcile per l'esattezza, nella melma a metà zampa. Non sono più i suoi due cavalli. Sono due ronzini, devastati. E allora chiede informazioni. E i servi del barone Fontronca dicono, per pagare il pedaggio di restare qui, li abbiamo utilizzati due settimane nei campi e si sono ridotti così. Non è vero, non è vero, non sono i miei cavalli. Se ne vada, morale della favola, Colas torna a casa. Va a cercare Erz. Magari è stato lui che se n'è andato con i soldi, chissà. Lo trova. Erz dice di essere stato picchiato dai servi del barone Fontronca ed è moribondo. Michele Colas torna a casa. Racconta tutto alla moglie, è sposato con Lisetta e hanno due figli. Racconta tutto alla moglie e comincia a perdere la testa. Non dorme più di notte. Non più una carezza ai figli. Non mangia più. Lisetta gli dice, Michele, stai calmo. Sono solo due cavalli. Lui dà una risposta straordinaria. Dice, sì, ma se con un gesto di puro arbitrio un uomo può rompere il cerchio della vita per soli due cavalli, allora vuol dire che tutto può accadere. E non si dà pace. Sta impazzendo in questi giorni Michele. Finché la moglie Lisetta, le donne sono più intelligenti degli uomini, gli dice, ma scusa c'è la legge. Va in procura e fai la denuncia. Cioè, le donne, ma c'è la legge, è vero. Allora parte, va a Dresda, va in procura, fa la denuncia e aspetta che arrivi la carrozza con la risposta che istituisca il processo Barone Fontronca. Ma questa carrozza non arriva. Una sera arriva una carrozza che lui pensa sia la carrozza giusta. No, sono degli amici che vengono a cena da lui. E uno degli amici gli dice, Michele, lascia stare. Sono solo due cavalli. Il Barone Fontronca è un uomo molto potente. Sai dove va finire il tuo processo? Vieni insabbiato, vieni chiuso. Michele, te li vai a riprendere, li pulisci, li riellevi bene e torneranno belli come un tempo. Al che Colas dice, sì, effettivamente sono solo due cavalli. Perché mi ostino così? Però gli batte in testa questa cosa. il sopruso, una parola, il sopruso. Un uomo nei confronti di un altro uomo con un solo gesto può fare questo. Non si dà pace. Torna in un incubo nero. Torna Lisetta, che è più intelligente. Gli dice una volta al mese c'è la supplica a Berlino dall'imperatore. Coloro che non hanno avuto giustizia possono fare la supplica all'imperatore. Lisetta però ha ragione, c'è la supplica. Scrivono la questione. Lisetta si veste tutta a festa. Noleggiano una carrozza e parte per Berlino. Il giorno della supplica, pieno di gente, bifolchi, puzzolenti, contadini, i deboli, i poveri, quelli che non hanno potere. Vanno a chiedere la supplica. Certo non il barone von Tronck. Insomma, com'è, com'è non è, arriva l'imperatore. Ci sono le guardie dell'imperatore con le loro alabarde. L'imperatore arriva, fa un gesto verso Lisetta, che parte sotto le alabarde dei, diciamo, delle guardie. Per raggiungere all'imperatore, una di queste guardie non si accorge del gesto dell'imperatore, la ferma. Lei cade e batte la testa sul basamento di marmo. Dopo alcuni giorni, Colas vede arrivare una carrozza, ma non è quella di Lisetta, quando è partita. È la carrozza che porta i malati. La vede scendere su una lettiga. Le va vicino e l'unica cosa che si muove, scrive Kleist, sono le lacrime che scendono dagli occhi, non si muove più. Lisetta muore. Michele Colas, quella notte, dopo tutti i due cavalli, dopo il sopruso, ha perso sua moglie, decide. I bambini vanno dai parenti, vendo tutta la proprietà, raduno 15 servi e la faccio pagare al barone von Tronck. Va al castello del barone von Tronck, intima di uscire. Questo non esce. Mette a ferro e fuoco il castello. Uno dei servi del barone von Tronck, che loro hanno ucciso, gli suggerisce che è nella città vicina. Va nella città vicina, sempre con questi 15 servi. Mette un cartello all'ingresso della città dicendo, se non mi consegnate il barone von Tronck, entro due giorni metterà a ferro e fuoco la città. Mette a ferro e fuoco quella città. E così di città in città. Solo che Michele Colas, dopo un po', che sta mettendo a ferro e fuoco mezza Germania, si gira e non sono più 15 servi. Saranno 100, 150 persone. Chi sono? E qualcuno sta cucendo delle bandiere. Sono le sue bandiere. Al che all'imperatore arriva la notizia. Andiamo benissimo. Al che all'imperatore arriva la notizia. Raduna i suoi principi e dice c'è un allevatore di bestiame che sta mettendo a ferro e fuoco delle città. Ma chi è costui? Chi si offre di annientarlo? Il principe di Sassonia, al quale le cose non stavano andando tanto bene, decide, ci penso io, ho 500 uomini. Non ne sopravviverà nessuno di quelli di Colas. Michele Colas con la sua truppa sta passando un altipiano e si vede di fronte l'esercito del principe di Sassonia, il potere, che si incunea e si prepara all'attacco. E lui si chiede ma cosa facciamo adesso che siamo 100 disgraziati con delle lance di legno? Cosa possiamo fare? Mentre parte l'armata del principe di Sassonia, Colas e i suoi uomini si infilano nel bosco e nel bosco la truppa del principe di Sassonia che sta arrivando, i rami diventano frecce, si perdono nel bosco, morti a centinaia e Michele Colas con i suoi ce la fa a sconfiggere il principe di Sassonia. Incredibile. Problema che alla fine di questa battaglia, dove Colas ha vinto contro un principe, Colas si guarda le mani e se le vede insanguinate e si dice ma volevo tutto questo io? Io volevo i miei due cavalli belli, forti, sani come erano un tempo. Cosa sta succedendo? Perché ho le mani sporche di sangue? Non posso andare avanti. Non ce la faccio, io non sono un assassino. E allora va nel bosco dove c'era un vecchio saggio, dove anche l'imperatore andava a confidarsi e lo va a implorare dicendo io smetto di fare qualsiasi cosa, l'importante è che l'imperatore mi dia la grazia. E il vecchio del bosco dice sì Michele, convincerò l'imperatore a darti la grazia, però tu devi sciogliere le tue truppe. E Colas aggiunge sì però ho un'altra richiesta, che venga istituito il processo al barone Fontronca. Va bene Michele, istituiremo anche questo processo. Si sciolgono le truppe, Colas torna dai suoi bambini, torna a fare l'allevatore di bestiame, tranquillo, torna a una vita serena. Ma il processo non va bene per i poteri che dicevamo prima, il processo non prosegue. E al contempo alcuni dei suoi stanno ricostituendo le sue truppe, al che un giorno davanti alla sua fattoria arrivano due, tre dei suoi dicono Michele, torna con noi, dobbiamo avere giustizia, non ti arriverà la giustizia dai tribunali, torna a farti giustizia con noi. Lui dice no, non posso, però intanto si sta mettendo l'armatura. Ho promesso, intanto sella il cavallo, insomma decide, riparte coi suoi, arriva, raggiunge il grosso del gruppo, era una trappola. Gli uomini dell'imperatore lo arrestano e lo mandano a Berlino in carcere, condannato a morte. La storia sembra finita qua. Non ce l'ha fatta. In realtà adesso c'è colpo di scena. Mentre sta andando a Berlino sopra questa carrozza, ci sono dei principi che stanno pranzando su un prato. Il principe di Sassonia è tra questi. Viene a sapere che su quella carrozza c'è quell'uomo che ha sconfitto la sua armata, che lui non aveva mai visto fisicamente. Allora ferma la carrozza, dice sono il principe di Sassonia, vi prego, fatemi vedere questo condannato a morte. Apre, vede in faccia Michele Colas e sviene. La carrozza riparte per Berlino. I suoi amici principi dicono ma cosa ti è successo? Lui dice ho visto in faccia quell'uomo e vi dico chi è quell'uomo. Kleist fa un flashback di qualche anno. Siamo in una locanda, il principe di Sassonia sta pranzando con i suoi amici, ad un tratto arriva una zingara che dice principe posso leggerle la mano per i soldi? Quante donne? Quanto successo? Principe di Sassonia dice brutta zingara vuoi leggerla anche a me la mano? Certo. Gli guarda la mano, prende un foglietto con un tizone di carbone e scrive. Piega il foglietto, lo mette in un ciondolo, va da un ragazzo che è all'ingresso della porta, glielo lega al collo e gli dice tiello per sempre, un giorno questo ciondolo ti salverà la vita. E va. Il principe di Sassonia rimane e dice brutta vecchiaccia zingara schifosa. Cosa fai? Come ti permetti? Mi leggi la lana o metti un biglietto al collo di un altro? Allora guardate ste zingare, guardate. Cosa mi cadrà stasera? Stasera il cervo più possente della tua tenuta, quando tornerai al castello ti farà un inchino. E lui dice, ah sì eh, l'inchino, bene. Allora, chiama il cervo, dice vai al castello, fai uccidere il cervo più possente della mia tenuta e me lo fai cucinare con patate e vino, che stasera lo mangio con i miei amici. Avete visto? Avete visto la zingara, no? Che succederà così, battene zingaraccia. Finisce il convivio coi suoi amici, stanno per tornare, quando arrivano al castello il principe di Sassonia a cavallo scorge la testa del cervo, in bocca al suo cane da caccia più fedele, che probabilmente l'ha rubata dalla cucina e per far vedere quanto era valente la sta portando al principe. E quando il cane arriva di fronte al principe molla la testa e la testa dello cervo fa un inchino. Naturalmente il principe di Sassonia rimane sbigottito. La zingara aveva ragione, devo trovare quell'uomo. In quel ciondolo c'è il mio destino. Il problema è che Colas è in carcere. Come si fa a arrivare in carcere? Lui va dall'imperatore supplicandolo di liberare Colas. Ma l'imperatore dice no, ha messo a ferro a fuoco la Germania, io lo condannerò a morte, ma al contempo istituirò il processo Dorone Fontron che condannerò anche lui per far vedere che la giustizia del principe è sulla bilancia. Ma è sempre giusta. Il principe di Sassonia deve trovare un escamotage, deve rapire Colas mentre lo porta nel patibolo. Ma come avvisarlo? Va avvisato, qualcuno glielo deve dire. Il prete. Il prete può andare nella cella. Il principe di Sassonia va dal prete e lo convince a dirgli il piano. Quella notte, prima dell'esecuzione, Michele Colas ha il dubbio. Da un lato una voce gli dice, ma Michele tornerai libero, vivo, tornerai ai tuoi figli, tornerai a levare i tuoi cavalli. Hai l'occasione d'oro. Aveva ragione quella zingara, quel ciondolo con cui il biglietto ti ha salvato la vita. Dall'altra parte c'è una voce che dice, Michele, ma che senso avrebbe tutto questo? Che senso avrebbe? Ti sei battuto perché un uomo con un soppruso, con un solo gesto è stato capace di rompere il cerchio della vita e tu adesso cedi sull'ultimo? Rimane tutta notte nel dubbio. La mattina lo vanno a prendere, lo stanno portando al patibolo, gli uomini del principe di Sassonia sono già posizionati per rapirlo. Colas apre il ciondolo, tira fuori quel bigliettino scritto della zingara e lo mangia, lo mastica e lo manda giù. Va sul patibolo, arriva il cappio che comincia a tirarlo e quando Michele Colas, la sua testa sta andando verso il cielo, verso la morte, in quel cielo però vedrà un cerchio della vita che si richiude e cosa c'è? Cosa vede il centro di questo cerchio? Due morelli, belli, forti e sani come erano un tempo. È una storia straordinaria. Oggi ci sono città perché è una storia scritta su una storia vera. Oggi ci sono ancora città che portano il nome di Michele Colas in Germania mentre delle sorti del principe di Sassonia non c'è traccia. Spero di non avervi attegliato con questo racconto, però era per dirvi quanto un racconto, anche spiegato, raccontato male, io non mi faccio l'attore, sia forte foriero di immagini. Quante immagini sono uscite in questo racconto? Quante? E allora noi le usiamo queste immagini? Sì, ma quali? Non dobbiamo andare, come avevo detto, a corredo come Gustave Doré ha fatto con la Divina Commedia. Non andiamo a corredo, andiamo a cercare immagini evocative o allegoriche, senza esagerare, andiamo a trovare qualcosa che non sia di dascalico ma che ci evochi qualcosa. E allora la prima tempesta, c'è la tempesta, c'è il temporale all'inizio di Colas, la prima tempesta nella storia dell'arte raccontata esplicitamente, questo è Giorgione, siamo all'inizio del 1500, lo avevano chiamato Giorgione perché era grosso, morto giovanissimo, ma questo mirava a Tiziano, questo dipinto è alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Guardate la bellezza, ma la bellezza dove sta? Che la protagonista di un dipinto non è una donna, non è un uomo, non è un dio, è un fulmine, una saetta. Sono state date diverse interpretazioni, tutte belle, ma tutte interpretazioni di un uomo che cerca di interpretare appunto, poi cosa volesse dire a Giorgione? Chi sono quelli? Il soldato e la zingara col bambino, qualcuno dice il soldato e la zingara, qualcuno dice Salvatore Settis forse fa la congettura più affascinante, Adamo ed Eva con Caino e il fulmine fa fuggire loro dal paradiso terrestre, ma questo non ci interessa. Il protagonista è l'ambiente, la natura e il fulmine. Vedete è un paesaggio agreste, la campagna, il fiume, le caseggiati, le nuvole tempestose e il fulmine. Però c'è un dettaglino che sfugge ai molti, ma non a tutti, che è il tetto di quel caseggiato sotto il fulmine. Guardate chi c'è sul tetto. C'è un uccello. Come i cavalli di Colas non erano timorati dalle intemperie del tempo, perché sanno cosa è il tempo, anche l'uccello. La famigliola sotto è preoccupata e timorata dal temporale. Lui no. Lui è lì, a petto in fuori, che li guarda. Io non voglio inerpicarmi in interpretazioni particolari, ma perché Giorgione ha dipinto questo uccello sul tetto? Perché? Uno solo, poi. Voleva far vedere che quello è il protagonista vero della storia, che non ha paura del fulmine, non è timorato da Dio come lo sono gli uomini. Altro dipinto. Dosso dossi. Il gesto del silenzio. Giove sta dipingendo farfalle e Mercurio zittisce l'allegoria della virtù. Quante volte a Colas viene fatto questo gesto? Michele. Michele. Calma. Calma. La giustizia è cosa per potenti, non è cosa per uomini. Lascia perdere. La bellezza di questo dipinto. Il gesto del silenzio. E questa è un'allegoria che mi viene in mente pensando quel racconto. Questo è Giotto, Cappella degli Scrovegni. Gioacchino e Anna alla Porta Aura di Jerusalem. Perché mi è venuto in mente questo? Parte per farvi vedere quello che vi dicevo prima, che Giotto è l'artista del racconto. Sono storie nel loro divenire. Cosa succede? Gioacchino e Anna si ritrovano alla Porta Aurea. Lui ha peregrinato coi pastori. C'è il pastorello che vedete che è quasi fuori campo. Sta entrando. È una scena cinematografica. Sta entrando dentro il pastorello. E lei è incinta. Aspetta Maria. Guardate le donne dietro che sono a festa. Sono a festa perché c'è il lieto evento. Sono tutte a festa tranne una. La vedova che ha lutto. Guardate come ritrosa, che ritrosi ha nei confronti della felicità di una coppia. A questa gelusalemme che, vedete quelle feritoie nelle torri? Sembra che qualcuno stia spiando da lì. Ecco il pittore del racconto. Ma perché ve l'ho preso evocato dal racconto? Perché Michele e Lisetta sono un tutt'uno. Muore la moglie, lui impazzisce. La moglie lo aiutava in tutto. Sono un tutt'uno. E chi c'è più tutt'uno di una coppia di questa? Due occhi, un naso, una bocca. Cioè due volti che creano un volto solo. Io credo che nessun pittore abbia dipinto un bacio in questo modo. Ci sono tanti baci nella storia dell'arte, bellissimi. Alcuni anche sono sulle scatole di cioccolatini. Però credo che così nessuno. Un volto solo. Due occhi, un naso e una bocca. Guarda che magia è riuscito a fare Giotto. E allora, saltiamo nel tempo. Novecento. Picasso. Questo è uno dei dipinti più famosi di Picasso, no? Guernica, lo conoscete. Guernica racconta il dramma della guerra, della battaglia. Abbiamo parlato di un racconto che è fatto solo di guerra e di battaglie. Questo forse è il dipinto più forte. Il bombardamento di Guernica da parte delle truppe naziste. Andiamo a guardarmi il dettaglio. Allora. L'immagine più tragica è quella di sinistra. C'è una donna col bimbo in braccio. Voi avete visto nell'iconografia di tutta la storia dell'arte quanto madre e bimbo siano in dolcezza. Di solito sono Maria e bambino Gesù, no? Quanta dolcezza, gli sguardi, le carezze, lui che le prende la mano, lui che le tocca una tetta. Cioè, c'è tutto sempre. È una tra lui e la madre. Guardate qua. Il dramma della guerra. La mamma ha il bimbo morto in spalla e grida al cielo, nella sua disperazione più assoluta. Dall'altra parte, a proposito di mettere a ferro e fuoco le città, la guerra mette a ferro e fuoco le città. C'è una persona che sta morendo dentro un palazzo in fiamme. In basso c'è un uomo coricato con una spada spezzata e uno che ha perso la battaglia. Sulla destra, vedete due volti? Sono due donne. Una tiene una lampada in mano. Come dire, verrà fatta luce su chi è il colpevole. Verrà fatta luce su questa storia. Il cavallo, e questo ce lo dice Picasso, quindi le interpretazioni di cavallo e toro, ci dice Picasso chi sono. Il cavallo è il popolo spagnolo che piange la morte e la distruzione di Guernica, il toro è l'esercito nazista. A volte non servono troppe parole. Questo è il dramma della guerra. Perché l'ha fatto in bianco e nero? Perché la guerra toglie il colore alla vita. È molto semplice. Fortunatamente, essendo un artista del Novecento, ci racconta quello che ha voluto fare. Anche se, vabbè, poi, Francis Bacon diceva, se una cosa si può raccontare a parole, è inutile dipingerla. Va dipinto ciò che è invisibile agli occhi. Se no, cosa serve? Altra immagine. La donna nel palazzo di fuoco, Francis Bacon. Quando prima citavo l'imperatore, il cinismo dell'imperatore, il cinismo del potere, siamo nel 1500 quando è ambientata quella storia, ma potremmo essere in qualsiasi secolo. Diego Velázquez, più o meno negli anni in cui è stata raccontata questa storia, dipinge il ritratto di Papa Innocenzo X e fa un ritratto di un Papa. Solcato dall'inquietudine del potere, però è un Papa, un ritratto che il Papa avrà messo nelle sue stanze. Questo è lo studio per il ritratto di Innocenzo X su Diego Velázquez. Guardate bene queste immagini. Queste immagini più di qualsiasi altra ci racconta il dramma della guerra, forse ancora di più di Picasso. Qui c'è Hiroshima. C'è la prima e la seconda guerra mondiale. C'è Auschwitz. C'è tutto il dramma del Novecento in questo dipinto. Perché la storia del ritratto, dall'iconografia bizantina che per nove secoli è indistinguibile, cioè voi vedete sempre delle madonne con dei bambini che sembrano dei plastici, arriva Leonardo nel Cinquecento e porta l'introspezione, cioè il volto di Mona Lisa ci racconta molto di più rispetto a un volto di una donna. Ci sono tutti i movimenti della dimensione interiore di questa donna. Guardate qua. È un mostro. È liquefatto. L'inconscio che ha portato Freud per la prima volta viene dipinto. Questo è Freud. La nostra scatola nera che abbiamo dentro, che non conosciamo e non riusciamo neanche a governare bene, perché abbiamo la parte buona ma abbiamo anche la scatola nera, lui l'ha tirata fuori. C'è tutto il dramma del Novecento. Allegorico ed evocativo perfetto. Di una storia metata nel Cinquecento. Guardate. Però non va più. Fine? Ah, eccolo, c'è. Questo è Andrea Mantegna, la Camera dei Sposi. Cosa fa? Questo mi è venuto in mente, perché quando Michele Colas guarda il cielo impiccato, vede il cerchio della vita che si chiude, vede i suoi due morelli, forti, belli, sani, come erano un tempo, Andrea Mantegna cosa fa? Sfonda addirittura l'architettura. Cioè, basta. Basta la cosa. Io la sfondo e faccio vedere il cielo. È aperta la cupola. Non è chiusa. E mette sul parapetto dei putti, mette sul parapetto degli animali, ma ci fa andare in cielo. Quanto è stato evocato questo cielo da Michele Colas, tanto Andrea Mantegna lo può metter lì. Allora, questo esercizio di stile non è un giochino attraverso il quale noi analizziamo un romanzo, un racconto, e poi andiamo a trovare le immagini che ci stanno bene. No. Noi nel racconto contemporaneo dobbiamo attingere, come dicevo prima, a tutte quelle immagini che evocano qualcosa. Non che accompagnino qualcosa, ma che la evochino. Anche perché in questo linguaggio contemporaneo moderno tutti i colpi sono ammessi. Io non lo so, però io mi confronto spesso con grandi scrittori. Da Aldo Busi a Barbara Alberti, mi confronto molto. E a volte ho fatto loro la domanda, ma la letteratura è finita? Ovviamente non c'è la risposta. Non c'è. Però diciamo che non sta vivendo un grande periodo. Voi pensate che un bambino di quattro anni di oggi, che nasce con l'iPad in mano, sia capace di prendere in mano Anna Karenina? Secondo me no. Ascolterà al massimo Anna Karenina in un podcast. Oppure guarderà la serie Netflix di Anna Karenina. Oppure non lo so quale diavoleria nascerà, ma io lo vedo dura, che prenda in mano un libro di 700 pagine e che gli rimanga l'attenzione di leggerlo senza guardare il cellulare. Poi, come ogni cosa, naturalmente il tempo sancira cos'è. Poi non scompare mai nulla. Perché invece c'è ancora l'opera lirica. Avete avuto qua Micheletto, che è un regista bravissimo di opera lirica. Certo, non è più l'opera che c'era nell'Ottocento. Nell'Ottocento un'elite della società, solo un'elite, salvo l'ultimo girone dantesco dei loggioni, poteva assistere all'opera. Ma che cos'era l'opera? Era il cinema in diretta, dove c'era il canto, il ballo, la recitazione, i costumi e la musica. E raccontava delle storie come il cinema nostro racconta delle storie. Cioè, l'opera lirica era il nostro cinema. Non è più così. Ormai c'è uno sparuto gruppo di melofili che vanno a vedere l'opera. Non ha più la forza dirompente che aveva una volta. È evidente. Però c'è, c'è ancora. Oppure, quando è arrivata la televisione, ovviamente la radio, appena è arrivata la televisione, è diventata la cuginetta sfortunata. Perché, ma come? Come prima la famigliola si radunava attorno al focolaio con la radio accesa, sentivi persone che raccontavano cose nel minimo dettaglio per farti vedere il film, è arrivata la televisione, addio. Il nuovo medium ha scacciato il vecchio medium. Ma adesso, non lo so, la radio, i podcast, la radio non è morta. È viva e lotta insieme a noi. Così come la televisione. La televisione, naturalmente, l'abbiamo detto prima, ha avuto la forza di far parlare una lingua a una nazione, nel nostro caso. Guardate che, quando Dante, nel De vulgari eloquenzia, si prefigge di foggiare un volgare illustre che venga parlato da tutti, poi, dopo due secoli, la scommessa la vince. È così. Ma gli italiani non hanno imparato l'italiano lì. Hanno imparato con Mike Bongiorno, gli italiani dell'ultimo secolo. È stato Mike Bongiorno che ha portato la televisione, che ha portato la lingua italiana a tutti e si è passati dai dialetti. Cioè, mia nonna parlava il dialetto, non sapeva l'italiano. Poi, a forza di guardare Mike Bongiorno, un po' di italiano l'ha imparato, ma non lo sapeva. Quindi, il nuovo medium sembra sempre prevalere sul vecchio, però, poi, chissà. Ecco, però, c'è un problema, e qui chiudo, che è questo. Che oggi siamo arrivati... Questo era un fiume, no? Che aveva un percorso con delle sponde, bene o male, cioè, si muoveva a destra e a sinistra, però bene o male sapevi dove andavi a parare. Ad un tratto siamo arrivati in mare. In questo momento siamo per l'alto mare aperto, per citare un cordante. E che si fa in mare? Dove sono i punti di riferimento? Non ci sono più. Adesso è la guerra dei mondi. Quindi, per raccontare, qualsiasi racconto sia, che sia un racconto di un documentario, che sia un film, che sia un romanzo, che sia una cosa televisiva, credo che porre dei paletti sulle immagini sia fondamentale. Io sono convinto, non lo vorrei tirare per la giacca perché l'hanno già tirato per la giacca per sette secoli, ma io sono convinto che Dante abbia pensato e scritto la Divina Commedia con delle immagini davanti. Se no, non te la puoi spiegare. Non te la puoi spiegare. Che ogni verso è un'immagine. Ogni verso è una fotografia, quasi. Gustave Doré ha fatto cinque o sei incisioni per canto, anche meno. Ma non servivano. Quindi, se Dante si è appoggiato sulle immagini, se Petrarca si è appoggiato sulle immagini, io dico che possiamo appoggiarci anche noi sulle immagini. Però, con l'attenzione che ci deve essere dettata dall'intento. Il nostro intento nel raccontare, sia esso romanzo, sia esso documentario, sia esso cortometraggio, deve focalizzare un intento. Federico Fellini disegnava tutte le scene. Le disegnava prima. Ragionava per immagini. E allora, chiudiamo col titolo. Oggi abbiamo a disposizione il museo immaginario che aveva preconizzato André Marrò. Usiamolo e saccheggiamolo con intelligenza. Però non dimentichiamoci mai che la parola è al centro di ogni nostro racconto. Grazie, ragazzi. Mi hanno detto che se c'è qualche domanda io sono qua. Salve. Lei all'inizio ha parlato appunto di internet. Voce. Salve. Lei ha parlato di internet, no? All'inizio. Sì. E di come è uno strumento che può darci accesso a tutto potenzialmente. La mia domanda è ma secondo lei perché invece è diventata questa cosa dove l'ignoranza non solo è imperversa ma viene addirittura celebrata? Cioè perché non c'è più posto per lo spessore? Non c'è più posto? Per le cose di spessore. Allora non è vero che non c'è più posto. Non è così. È chiaro che la preponderanza delle stronzate passatemi il termine è più forte ma non solo su internet scusate adesso io non vorrei vogliamo parlare della televisione? Io faccio io conduco un programma televisivo ti faccio l'esempio così è bello chiaro. Io sono cresciuto con la BBC con un programma che si chiamava Hard Talk sapete cosa vuol dire? Capito? Hard Talk Stephen Sucker un giornalista aveva di fronte un politico questo politico che si chiamava Tony Blair Ronald Reagan cioè capi di Stato lo massacrava per 30 minuti di domande una volta andò a un politico italiano non vi dico chi è che parlava bene l'inglese ad un tratto Stephen Sucker lo stava incalzando per su dei problemi che lui aveva avuto in passato con la legge eccetera eccetera non è quel personaggio che pensate e questo all'epoca era presidente del consiglio questo china il capo e ad un tratto Stephen Sucker dice sorry Mr. President look into my eyes please a un presidente del consiglio alla fine dopo che lo ha massacrato di domande gli ha dato la mano gli ha detto all the best Mr. President all the best ecco io sono cresciuto con questo programma perché cosa vuol dire che il giornalismo italiano questo è il giornalismo anglosassone se voi andate a Londra e insultate la BBC vi tirano un calcio nel sedere sono orgogliosi di pagare la BBC e di pagare il canone qui da noi non succede che siamo orgogliosi di pagare la canone da RAI perché perché la fanno il watch the dog cioè il giornalista è il cane da guardia dice ai cittadini voi siete impegnati a fare la spesa a portare i bambini all'asilo a pagare le bollette calmi ci penso io controllare cosa fanno questi in Italia purtroppo la maggior parte sono giornalisti sono cani non cani da guardia ma cani da riporto allora ho creato questo programma che mi sono messo a fianco scansi travaglio noi crediamo di farlo su quella traccia questo mestiere poi potremmo stare sui vabbè a tanti è simpatico però quella è la traccia fatta ma secondo voi il nostro share è più alto di come si chiama Barbara D'Urso no no e la intervistano Salvini come intervistiamo Salvini noi attenzione quindi non è soltanto su internet è che un certo tipo di comodità di facilità di folclore di colore alla meglio proprio per questo io mi sono messo a fare i cento canti in un minuto non gliela voglio dar vinta a quelli che postano le barzellette con tutto il rispetto delle barzellette che sono la quintessenza della narratività chi le racconta bene è bravo ma non voglio dargliela vinta quindi resistere 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 prego mi sente? sì collegandomi alla domanda che ha fatto il ragazzo secondo lei la responsabilità per questo crollo della qualità che c'è in televisione su internet è più da attribuire a chi queste informazioni le propaga e le crea o a chi invece ne fruisce cioè chi è che dovrebbe andare a darci all'altro sì giusto torniamo al discorso di prima oggi se io leggo una notizia su internet raramente vado a vedere chi l'ha scritta io scrivo per il fatto quotidiano è nato un sito che si chiama il fatto quotidiano c'è una lettera di differenza un giorno mia madre mi telefona dice ma cosa avete scritto guarda non ha guardato o meglio poveretta ha guardato ma lasciamo stare che qui è un po' un inganno subdolo ma tu non vai a vedere la cosa la frase di Umberto Eco vale come la frase del primo coglione che passa per la strada su internet è tutto uguale apparentemente tu puoi poi metterci la qualità il New York Times esiste ancora esiste ma tocca a noi andare a leggere il New York Times e non pincopallino.it perché su pincopallino.it io non ho la garanzia che ci sia la deontologia che serve la serietà che serve bene o male se leggo una cosa sul Corriere della Sera non posso pensare a una fake news giusto tendenzialmente è una cosa vera magari può essere interpretata poi in modo diverso ma è vera ma se vado su cipolippo.it cosa ne so siamo semplicemente noi perché l'offerta di qualità c'è sapete che una volta avevano fatto un esperimento dicendo ah ma in televisione se non sono delle sciocchezze eccetera hanno provato a prendere dai vari palinsesti non so lo sceneggiato di Anna Karenina fatto dalla Rai che era alle 8 del mattino Baricco che raccontava qualcosa hanno portato a mettere nel palinsesto settimanale tutte le cose di qualità no? tu devi vedere lo share non c'era era uno share residuale allora di chi è la colpa? è nostra è nostra prego poiché ci sia una rincorsa non c'è dubbio che ci sia una rincorsa perché ad esempio la Rai che è un servizio pubblico sinceramente quando vedo Alberto Angela mi si dice che sta facendo servizio pubblico quando vedo i programmi che scimmiottano le reti commerciali non sta facendo servizio pubblico perché non posso pagare un canone per vedere delle sciocchezze le sciocchezze le ho gratuitamente a pagamento dove voglio ma l'azienda la vita culturale più importante di questo paese come è sempre stata definita la Rai non può tutte le volte farmi vedere il programma concorrente della rete a pagamento ma allora che cosa serve? perché pago il canone? se a me piace X Factor e a me piace ve lo vado a vedere su Sky ma perché poi devo avere come si chiama quell'altro The Voice sulla Rai? no sulla Rai voglio Alberto Angela che a volte batte Temptation Island siamo zitti prima che siamo zitti prima che si cambi qualcosa prego buongiorno non so se rientra nella parola resistenza già dov'è? alzi la mano che non la vedo ecco non so se non so se rientra già nella parola resistenza che ha detto prima volevo chiederle se secondo lei nella didattica di adesso ma dei giovani di adesso ma anche di 30 anni fa ha senso che Dante si è insegnato come anche preterca come ha insegnato ancora cioè per quello che ti può lasciare per i tempi che sono cambiati per il ragazzino di 4-5 anni bambino che però adesso appunto nasce con l'iPad in mano come ha detto prima sì è vero beh innanzitutto non insegnano la Divina Commedia a 4 anni ne insegnano dopo però c'è un fondo di verità in quello che gli dice nel senso che girava un adagio tra alcuni miei amici che diceva se vuoi far odiare una cosa qualcuno insegna la scuola un po' è vero però in realtà no perché è ancora importante perché vede Dante e Petrarca non è che abbiamo stabilito o Alessandro Manzoni il più importante romanzo italiano della modernità non è che qualcuno che sia stata un'entità superiore che ha stabilito che quelli sono più bravi degli altri no è che quelli hanno stabilito un archetipo che vale per sempre cioè se pensate alla favola esopica no avete presente la volpe e l'uva la volpe va dall'uva non la raggiunge e diceva tanto non era matura è una favola esopica 24 25 secoli fa ed è perfetta oggi perché ha toccato un archetipo il viaggio di Dante nel inferno purgatorio paradiso è un viaggio contemporaneo è con noi oggi è chiaro che è più difficile da leggere perché oggi noi parliamo una lingua differente quella è la madre della nostra lingua però oggi parliamo una lingua differente ma l'archetipo è quello quando Dante ha paura quando Dante piange quando Dante dice Virgilio maestro terrorizzato siamo noi oggi uguali quando andiamo nella alla libreria no a prendere un libro a scegliere un libro io dico sempre ma quando si sceglie un libro ci sono due strade che non hanno una differenza di valore verticale è orizzontale c'è la narrativa c'è la letteratura c'è il libro che ti riporta a casa che ti riporta sul divano di casa c'è quello che tu leggi che solitamente è tra i primi in classifica dove tu ti identifichi inizia dicendo sto facendo la doccia mia moglie sta ancora dormendo ma io penso alla mia amata che è in ufficio con me quando lo dirò a mia moglie tutti come me ti riporta sul divano di casa poi c'è la letteratura che non ti riporta sul divano di casa ma ti porta nella selva oscura Franz Kafka una mattina uno si sveglia ed è un insetto Kafka non dice mai quale insetto è lo sapete no Kafka non specifica l'insetto e qual è la reazione della famiglia non della disperazione che entra nella stanza il figlio è diventato un coleottero no cosa diranno i vicini di casa gli tirano una ciabatta al che io mi ricordo che lì ciò mi misi a ridere con il mio compagno di banco quando venne letto questo passaggio la professoressa si arrabbiò moltissimo ma come un dramma non capite cosa avete nel cervello poi crescendo visto tutto l'apparato critico che hanno detto che è il dramma più comico della storia quello di Kafka nessuno gliene frega niente che diventi uno scarafaggio a tutti frega di come faremo a guadagnare lo stipendio che lo porta a casa cosa dirà il vicino di casa cosa dirà il datore di lavoro è un dramma comico e questa è una genialità sarà eternamente vivo questo romanzo così com'è eternamente vivo Dante così com'è eternamente vivo Petrarca così com'è eternamente vivo Esopo spero di aver dato una bozza di risposta prego sì ma gli altri vabbè sì vabbè e proprio nel caso di dato che è anche solo ambito di notizie politiche quanto secondo lei è legittimo che Facebook Twitter come per esempio è successo adesso con il caso in America per il figlio di Biden intervengano attivamente a rimuovere genere di notizie considerate false allora questa è una questione naturalmente delle più aperte perché come si fa a stabilire ciò che fa e ciò che è vero cioè diciamo che spesso e volentieri a volte è plateale vabbè spesso e volentieri la linea di marcazione è molto molto sottile e prima se uno raccontava una balla la raccontava al bar no la raccontava a un gruppo di amici la raccontava in un consesso come questo più largo ma era tutto molto ristretto oggi chiunque di noi ha a disposizione con i social un giornale una tv a sua disposizione e più raccontavalle spesso più a seguito io rimasi molto colpito da una cosa a proposito della forza delle immagini dalla quale siamo partiti un giorno di qualche anno fa su facebook apparve la foto di Stephen Spielberg una foto di scena del primo Jurassic Park dove stava appoggiato al Triceratops l'animale preistorico morto tipica foto che fa il cacciatore quando uccide l'elefante è stato sommerso di insulti da migliaia di animalisti maledetto assassino ma era il Triceratopo non hanno neanche visto l'immagine neanche la foto hanno visto uno appoggiato ad un animale senza fare l'animale maledetto assassino insulti minacce di morte come si fa deve stabilire cosa è fake e cosa non lo è se l'algoritmo dovesse andare a vedere a quante persone reagiscono potrebbero toglierglielo ma quella era la foto di scena di un film è difficilissimo io credo che non lo so non voglio fare il preconizzatore però io credo che il futuro sia dell'identità digitale non è possibile che adesso chiunque dice qualsiasi cosa e passa tutto liscio uno avrà un'identità digitale e quella di un'identità digitale è esattamente come la carta di identità se io vado in piazza e insulto una persona questa mi denuncia se io vado su facebook no ma perché perché no poi dopo c'è anche modo e modo di reagire cioè a me piacciono molto quelli che io sfortunatamente non ho molti haters dico sfortunatamente che ne vorrei perché vabbè io parlo un po' di Dante un po' di Piero della Francesca non è che arrivano lì dire no quello brutto non capisco neanche quello che sto dicendo però a volte metto dei post della trasmissione dove parlano di politica e lì qualcuno arriva purtroppo pochi ancora io sarei per incoraggiarli forza ragazzi di più di più ma insultatemi pesantemente così c'è un avvocatino che guarda tutti i post poi vi arriva una letterina del tribunale poi mi arrivano i soldini a me che mi compro un'opera d'arte forza ragazzi forza questo è un approccio ma c'è chi se ne va Enrico Mentano per un periodo si è tolto dai social perché riceve troppi insulti che poi questi qui si doveva prendere uno a uno avete visto le trasmissioni le iene tipo ma non volevo è così adesso è un cul de sac cioè un cane che si morde la coda io credo che finché non ci sarà un'identità digitale sarà il mare magnum che non vuol dire privarsi della libertà ma io ho la libertà di insultare una donna o un uomo no eppure sono un uomo libero nella società e perché lì se tolgo la possibilità di insultare c'è meno libertà ma non lo capisco sinceramente Salve rispetto alla questione del rapporto tra parola e immagini insomma di cui abbiamo parlato finora io pensavo appunto quando ha parlato delle sue esperienze con degli scrittori in cui Elia ha posto la domanda ma la letteratura quindi è morta considerandola l'importanza attuale delle immagini eccetera quello che pensavo è più che altro che secondo me ci sarebbe estremamente bisogno di una rieducazione anche se è un termine da prendere con le pinze di una rieducazione nei confronti della letteratura soprattutto nelle fasce più digitalizzate secondo me per un motivo molto semplice che se io leggo un libro le immagini che mi sorgono nella mia testa e quindi il processo immaginativo a cui io do atto sono diversi dalla persona che è a fianco a me dal mio amico da qualunque altro cosa diversa è che guardo un film o una serie tv anche se sono fatti da dio questo processo serve l'interpretazione semmai ma non c'è un processo immaginativo in un contesto generale in cui poi ci sono processi di governamentalità algoritmica per cui noi sostanzialmente non immaginiamo più ci viene preposta la realtà secondo me appunto è un dubbio che pongo nei suoi confronti forse non bisognerebbe anche ripartire dal fatto che un audiolibro può aver senso sicuramente è un futuro secondo me sostenibile su certi punti di vista però un futuro di nativi digitali che guardano serie tv o film anche di qualità ma solo quelle non leggono più insomma proprio neurologicamente a livello di immaginazione è un problema sì sono totalmente d'accordo e aggiungo una cosa che educare sì però è sempre una parola che incuta un po' di timore devo essere educato a qualcosa quando io vedo un educatore cerco la strada opposta tendenzialmente se sono un ragazzo soprattutto però è verissimo bisognerebbe riuscire a instillare un po' il fatto che il romanzo a differenza della serie televisiva del tutto ti dà uno spazio di libertà assoluta come diceva lei di giocare con le immagini allora sempre per stare in questo campo di resistenza come diceva il nostro amico lì in fondo io cosa faccio cosa può fare ognuno di noi ognuno può fare qualcosa io faccio quasi non tutti i lunedì però uno ogni due settimane perché se no veramente faccio una diretta Instagram dove parlo di un romanzo ma non è che la mia diretta Instagram si sostituisce alla lettura del romanzo il mio unico scopo è far sì che attraverso il mio racconto questi vadano a prendersi il libro io vi dico ho 15.000 follower su Instagram quando faccio una diretta ho 400-500 persone in diretta poi dopo arriva qualche migliaio con chi la vede dopo ma 400-500 persone le faceva su Instagram Monti Montemagno l'altro giorno che c'ha 500.000 follower Mentana e Renzi hanno presentato il libro in collegamento Instagram quindi hanno sommato i due platei Instagram hanno fatto 350 persone quindi quanto valgono i miei 500 su 15.000 rispetto ai 500 su chi ne ha 500.000 cosa significa? che le persone trovano nel mio racconto un qualcosa e voi dovete vedere nei giorni successivi mi mandano tutti nei messaggi privati le foto del libro comprato tra un po' chiederò scriverò le case editrici scusate ma Anna Karenina e in Audi ne hanno venduti 40 negli ultimi due mesi grazie a me datemi una royalty questo per dire che è un tentativo ma non di educare è un tentativo di stimolare ti faccio vedere che è più divertente così provaci poi magari non è così è un lusso democratico un libro un libro costa 8 euro cioè è un lusso democratico che ti porta nei mondi dove tu vuoi e il tuo immaginario si arricchisce ma te lo arricchisci tu i promessi sposi se io lo leggo nella straordinarietà che porta in sé io penso alla faccia di Don Abbondo io penso a chi voglio nello sceneggiato Rai Don Abbondio era Michele Placido bravissimo ma io non voglio pensare a Michele Placido se penso a Don Abbondio nelle serie Narcos bellissima The Crown quella sulla regina danno meno spazio all'immaginario allora visto che c'è questa omologazione globalizzazione dell'immaginario collettivo tutti vogliono la stessa giacca tutti vogliono la stessa scarpa tutti vogliono lo stesso giubbotto e tutti vogliono la stessa immagine col libro andremo in direzione ostinata e contraria andiamoci e compriamoci i sandri di gomma se quelli di gomma erano piccoli siamo quasi ci sta ancora una domanda se volete lì no una se siamo veloci forse anche un paio prego sì dunque scusate se mi riallontano dal giornalismo e dalle cose di cui abbiamo parlato volevo solo chiedere visto che lei proviene dall'ambito accademico perché nelle università non non si accetta la scrittura creativa come come una disciplina accademica quando si parla di immaginazione c'è un po' uno stigma invece quando si parla di giornalismo di traduzione letteraria invece è tutto molto più tranquillamente accettato porterò la domanda a chi di dovere no io credo che comunque l'università debba mantenere un certo tipo di baricentro che all'apparenza può sembrare a volte un po' antiquato anche però è un baricentro baricentro come dire mi faccio un po' i muscoli e poi quando ho il momento di fare ginnastica vengo alla Holden cioè mi piace che ci sia questa cosa qui mi piace che che l'università sia un po' il dogma no? perché anche guardate io sono laureato in legge uno dice ma come è potuto accadere è accaduto è accaduto era il 92 c'era Tangentopoli volevamo tutti essere i pool di mani pulite tutti iscritti a legge una mandria di avvocati fortunatamente mancati però questo per dire che poi il procorso onoristario vedi ti dà delle basi a me è servito molto a far legge conosco il diritto pubblico il diritto privato l'ordinamento dello Stato faccio il giornalista che si occupa anche di politica quello mi ha dato tanto poi però le strade del Signore sono infinite fortunatamente però credo che l'università il baricentro lo debba tenere un po' rigido passami il termine un po' rigido poi non tanto da da essere qualcosa di aliena di alieno rispetto alla società questo siamo fuori di dubbio ma per questo c'è la Holden che mi frega di l'università voilà d'accordo se non ci sono più domande ringraziamo Luca Sommi grazie ragazzi grazie 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 a tutti